L'inclusione, capire le conseguenze di quello che sta succedendo, stare vicino agli studenti che hanno problemi di qualsiasi natura. Anche con azioni individuali, cioè le famiglie avranno la possibilità di avere un aiuto dentro le case. Possono essersi studenti che non vogliono uscire di casa perché hanno paura del Covid, dicono una cosa così. O comunque le disabilità che conosciamo, cioè i ragazzi autistici che sono rimasti a casa e che quindi soffriranno in particolare le chiusure delle scuole. Questo è uno dei tantissimi esempi. Tutti quei ragazzi, quelle ragazze che stanno soffrendo a causa del Covid e che continueranno forse a soffrire a causa del post-Covid. Cioè sono dei traumi che gli studenti, gli studenti giovani soprattutto, potranno soffrire per parecchio tempo. 25 milioni di euro per due anni, si potrà accedere anche a 170 mila euro, fino a 170 mila euro, se ci sono situazioni particolarmente complicate. Sicuramente contro l'abbandono, questo è l'abbandono dovuto a qualsiasi motivo. Quindi siamo contenti di dire ci siamo, abbiamo pensato a queste situazioni, facciamo quello che si può e spero che tutti approfitteranno.